Oh, ma che? Ma che ha fatto, raga? Ma che fa? Ma perché tu l'hai andato, tipo, indietro? Ha fatto un salto enorme. No, no, questo fa ci puscia. Oddio, guarda quanto arriva cattivo. Aiuto, ma vola! Ma che è? Aia, oh, ma che è? What the heck? No, 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 raga, mi sta tirando a sé. Mi sta ciucciando, via, 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 prendi il rift. Aia! Paolula! No! Eh, vabbè, raga, quante ho pisso, boss. Aia, aia. Dai, dai, a questo è andato giù. Dai, 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 morto. Let's go! Sì, però almeno ci dovrebbe esserci la spada laser più forte del gioco adesso.